Io sono nato in Gambia il 6 giugno 2001. Non siamo ricchi ma ci divertiamo un sacco. Ho scelto, quindi era l'unica scelta che avevo deciso di partire. Sono partito. Il viaggio è stato lungo e dura. Partevamo con il pullman da paese a paese. Avevo fatto fino a Libia. Il viaggio è durato tre mesi. Poi quando ho aspettato lì, quando è arrivato il momento, siamo andati al mare per partire. Poi quando siamo partiti con la gomma, dopo due ore, due ore e mezzo circa, è arrivata una nave grande, quella che salvano le persone. Eravamo tutti felici perché avevamo la speranza di avere una vita migliore. Cercheremo di portarti alla Roma. Io ho detto, cosa Roma? Mi fa, sì, Roma. Roma la conoscevo anche quando stavo in Gambia. Quindi quando incontrate altri rifugiati, ricordatevi della mia storia. Ricordatevi che non siamo così diversi. Dio non sono così diversi. Non siamo aspettati al campionato. Noi sono per iniziati a Roma-N'Eppoli. Dio non sono per Cattolino. Sì, noi siamo aspettati. Siamo iniziati a lì. Per la pagina. Per la pagina. E poi benvenire non siamo per uno. E poi semplice per la pagina. Grazie.